Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cino, sono Giulio e volevo fare la recensione sempre dal Locarno Film Festival della 76esima edizione, la recensione di uno dei film italiani che è stato presentato nella sezione Piazza Grande che è La Bella Estata, il film diretto da Laura Lucchetti che vede protagonista Iara Vianello, Deva Cassel, Alessandro Piavani e tra l'altro la regista e i due attori sono stati protagonisti di un bel incontro a cui ho partecipato e che vi invito ad ascoltare, è stato un incontro molto interessante e il film lo è altrettanto nel senso che è un film tratto da, ammetto, un omonimo libro di Cesare Pavese che assolutamente non conoscevo e che ho trovato interessante, un film decisamente di altri tempi per svariati motivi, siamo nel 38, siamo nella campagna di Torino, la protagonista Ginia ha lasciato da poco la città proprio per trasferirsi in campagna e incontra una piccola comunità abbastanza bohemienne che la condizionerà, nel senso che prima farà un incontro con un giovane pittore, poi incontrerà Amelia e tra i tre nascerà una sorta di triangolo amoroso, non tra tutti i tre ma i tre protagonisti sono loro e Ginia dovrà capire le prime sensazioni di amore, i primi battiti di cuore anche da un punto di vista proprio sessuale e quindi avrà questa bella estate dove potrà essere assolutamente se stessa e dove potrà conoscere il primo amore. Questo è in brevissima la storia di questo bel film che ci trasporta ovviamente indietro nel tempo facendo anche un film direi fuori anche dalle abitudini del cinema italiano, non solo per una questione temporale ma proprio per una questione anche di struttura, anzitutto per una bella ricostruzione da un punto di vista storico sia delle location, sia dei costumi, sia anche del modo di vivere all'interno della casa, anche il loro modo di comportarsi ma che in realtà è solo una trasposizione a livello temporale ma l'argomento è un argomento universale ovvero quello del primo amore, dell'innamoramento, delle prime esperienze dal punto di vista sessuale con una conclusione che ovviamente non vi dico ma che spiazza decisamente, lascia anche un bel po' di amaro in bocca quello che ho trovato interessante nel film oltre alla ricostruzione è la bravura sia della regista nel guidarci dentro questo tempo sia per i tre attori protagonisti, è un film che ha anche un modo decisamente diverso del nostro cinema un modo decisamente di narrare molto più pacato, molto più calmo, molto più anche mi verrebbe da dire intimo secondo me in qualche momento il film ha una lieve inflessione dal punto di vista un po' ritmico però la storia che assolutamente non conoscevo l'ho trovata interessante perché poi comunque pone delle domande che sono delle domande universali che possono riguardare quel tempo come i giorni d'oggi l'amore è universale, cambiano le epoche ma i modi per certi versi sono diversi ma per altri sono identici anzi cambiano gli strumenti, poi gli approcci sono direi abbastanza universali altro da dire sul film è che siamo nel 38 ma in realtà la presenza del fascismo è solo una cornice storica marginale non è presente nella storia se non mediante qualche inquadratura, qualche discorso fatto alla radio però è assolutamente marginale anche perché essendo raccontato un po' la vita di campagna di questa piccola definire comunità è abbastanza tra virgolette fuori dal contesto storico, fuori dal tempo il risultato è un film sicuramente interessante sicuramente che richiama un pubblico tra l'altro ricordo che il film verrà distribuito a fine agosto se non sbaglio dal 23 di agosto nelle sale italiane e l'adattamento è appunto non conoscendo il libro originale è da quel che ha detto anche la regista è un adattamento molto fedele ha cambiato solo qualche piccolo particolare come detto nell'incontro che ripeto vi invito di ascoltare e vedere sul canale youtube di CineTVlandia altro da dire non ho questa era la bella estate film presentato al Locarno Film Festival nella sezione Piazza Grande in uscita prossimamente nelle sale italiane per questa recensione è tutto ciao a tutti alla prossima ciao